Sono qua e tutto a posto Questo è ciò che dico di solito e se rispondo Qua è tutto fumo sì ma niente arrosto Io qui fra stiamo fumando e stiamo mangiando arrosto Non vorrei pensare solo ai soldi sì ma non posso Non vorrei farti rosicare sì ma non posso Ora se mi permetti non chiedo più permessi Anzi entro e fumerò tutti sti divieti Non permetterti mai più di rivolgerti così Esci fuori entro e prova a rivolgerti a modo Fumo nebulosi sto proprio su un altro mondo Fumo nebulosi sto proprio su un altro mondo No non ti permettere di fumarla proprio tutta tu No non ti permettere di rivolgerti così a me No non ti permettere io fumo nebulosi e faccio yeah 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 Grazie.